Allora, ciao ragazzi, ciao ragazzi, io ho visto il video del mio amico Peter Pan e ho visto che diceva il vento sta cambiando, il vento sta cambiando grazie a noi. Caro Peter, tu sei in Germania, sei in Germania quindi non puoi sapere se il vento sta cambiando dalla Germania, ma ti posso garantire che era solo la prima partita di campionato, quindi visto il campionato scorso, visto tutte le porcherie che l'Inter ha fatto nel campionato scorso, non potevano certo alla prima giornata fargli andare tutto bene, capisci amico mio, e hanno voluto far vedere che qualcosa stava cambiando perché è la prima giornata, parliamo della prima giornata, ma andiamoci piano, andiamoci piano Peter con queste, con queste, come devo dire, con questi sogni, ecco, con questi sogni perché davvero è presto, è presto per parlarne e aspettiamo le altre giornate. Ragazzi, vi chiedo un like al contenuto perché io vi riporto la verità che i giornali non vi dicono e vi chiedo un like al contenuto e l'iscrizione, l'iscrizione, e l'iscrizione al canale perché se volete notizie che i giornali non vi danno, quelle ve le posso dare solo io e i miei amici di merenda, è logico, però io ragazzi so cose che gli altri non sanno, anzi che sanno ma che non vi dicono, non vi dicono, perché se ve le dicessero non lavorerebbero più, non lavorerebbero più, ragazzi, andare contro l'Inter oggi significa non lavorare più, perdere il proprio posto di lavoro, perdere lo stipendio, non conviene a nessuno parlare male dell'Inter, quindi iscrizione al canale di Salento e basta e like al video. Allora, caro Peter, io ti voglio bene, lo sai, ma il vento non è cambiato, te lo posso assicurare, cominciamo solamente dai primi dieci minuti della partita. Nei primi dieci minuti della partita ci sono stati due falli ridicoli fischiati all'Inter, due falli ridicoli, un Turam che basta che si butti a terra e subito punizione, per l'albitro è subito punizione, l'albitro non fa nessuna fatica a fischiare punizione a Turam. Nei primi dieci minuti ci sono stati due falli, due falli fischiati all'Inter, davvero ridicoli, caro Peter. Poi andiamo avanti, Inzaghi, ragazzi ma Inzaghi può davvero protestare in quel modo? Ma secondo voi è normale che un allenatore protesti in quel modo? Per me non è normale. Il mio Allegri, il mio amato Allegri, l'anno scorso, sì lo so che l'anno scorso lo criticavo ma adesso lo amo, l'anno scorso è stato più volte espulso proprio per le stesse reazioni che ha Inzaghi in panchina. Ora qualcuno mi sa spiegare perché Inzaghi viene solo ammonito mentre Allegri veniva espulso? Qualcuno me lo sa spiegare? Ve lo posso spiegare io perché se un arbitro espellesse Inzaghi e quindi l'allenatore dell'Inter non arbitrerebbe più, non arbitrerebbe più ragazzi, non arbitrerebbe più. E ritorniamo sul fatto dei giornalisti. Se un giornalista parla male dell'Inter non lavora più nel giornale, se un arbitro espelle Inzaghi, il senatore dell'Inter non arbitra più. Ragazzi questo è cronaca, non è che mi sto inventando niente. Avete mai visto un mio video dove mi sono inventato qualche cosa solo per parlare male dell'Inter? Non penso. Quindi ragazzi quando parlo io prendetela come sacra verità, sacra verità. E Acerbi, Acerbi è un giocatore che è stato sempre schifato da tutti. Acerbi è stato schifato al Milan, Acerbi è stato schifato al Sassuolo. Acerbi è un calciatore che sta sulle balle a tutti, a tutta l'Italia. È davvero una persona che vale zero. Dove poteva giocare? Poteva giocare solo nell'Inter, in quella squadra schifata da tutti, tranne che dagli interisti l'Inter è schifata da tutti. Non la Juve, non la Juve, l'Inter. Solo gli interisti vogliono bene all'Inter. Gli altri, gli altri italiani, il resto della popolazione mondiale, l'Inter, la schifa, la schifa. Perché è una squadra di schifosi, è una squadra che non ha senso, non ha senso. Proprio Inter, la parola Inter già non ha senso. Che parola è l'Inter? Quindi Acerbi, che fa tutto quel casino, che già doveva essere ammonito la seconda volta. Acerbi non doveva finire la partita. Acerbi è un pagliaccio. Acerbi meritava la seconda ammonizione e l'espulsione. Invece ha finito la partita. Perché? Perché il presidente dell'Inter si chiama Marotta. Si chiama Marotta, ragazzi. Quindi è stato graziato. È stato graziato. Ma poi quella scena finale dove voleva picchiare tutti. Lui voleva picchiare tutti. Un Acerbi che è un pagliaccio. Ha preso il posto di quell'altro pagliaccio di Materazzi. Acerbi. E questa è la gente di cui parliamo noi. Questa è, ragazzi. Gente che vale zero. Che vale zero. Ora passiamo al rigore che il mio amico Peter dice il vento sta cambiando. Peter, quel rigore l'abbiamo visto tutti. Senza Moviola, senza VAR. Abbiamo visto che Bissek c'aveva la mano così. L'arbitro lo doveva dare subito. Però perché non l'ha dato subito, caro Peter? Perché? Perché sperava nella non chiamata del VAR. Dentro di lui diceva no, speriamo che non mi chiami. Speriamo che non mi chiami. Invece poi l'ha chiamato. È dovuto andare dal centro. Guardate voi. È dovuto andare dal centrocampo fino al VAR. Alla tv del VAR. Per fare finta. Perché lui l'aveva visto. Infatti è stato mezzo secondo. Mezzo secondo. Ha guardato e è tornato a dato rigore. Ma l'avevamo visto tutti. Io, Gigio, l'avevo visto. L'avevo visto. Quindi, ragazzi, stiamo parlando di qualcosa di scandaloso. Anche quando l'Inter non vince. Succedono gli scandali. Succedono gli scandali. L'Inter è una squadra, ragazzi, che se non rubasse, non vincerebbe. L'anno scorso, se non l'avesse rubato, mai avrebbe potuto vincere uno scudetto in quel modo. E lasciate perdere che ha dato 20 punti, 25 punti. Lasciate perdere. Se noi leviamo tutte le porcherie che ha fatto l'Inter l'anno scorso. L'Inter non sarebbe mai arrivata a quel numero. A quel numero sopra i 90. Ragazzi, ma di che cosa stiamo parlando? Di che cosa stiamo parlando? È un sistema che protegge l'Inter. Quindi, caro Peter Pan, il vento in Italia non sta cambiando. Tu stai in Germania, non sai che il vento è sempre quello. Hanno fatto passare la prima giornata. Dalla seconda giornata in poi cominceranno di nuovo. Tutte queste porcherie cominceranno di nuovo. Cominceranno di nuovo. L'Inter diventerà la squadra dello scorso anno. L'Inter potrebbe anche vincere lo scudetto. Ma se vincesse lo scudetto sarebbe perché l'ha rubato. Un'ultima cosa su Morata. Ieri è stato uno scandalo. Avete visto, parlo anche del Milan. Certo, 10 secondi, ma anche del Milan. Uno scandalo. Dare il rigore a Morata e poi toglierlo. Io voglio bene a Morata, sapete, ha giocato con la mia Juve. Però dare il rigore e poi toglierlo è uno scandalo. A prescindere se i rigori ci fossero o no. A me non interessa. Però è uno scandalo perché è Morata che ha giocato con la mia Juve. Però, se devo essere sincero, a me piace il fatto che Morata giochi con il Milan. Perché il Milan è l'unica squadra che... Milanisti, sentitemi, sto parlando di voi. Sto parlando bene di voi. È l'unica squadra che merita, merita un giocatore come Thuram. Cioè, il Milan, stiamo parlando di una squadra gloriosa, gloriosa in Italia e un'Europa. Mentre gli altri sono dei vermi, dei ratti. Forza Juve.